Ciao ragazzi in questo video vi mostro come realizzare un mini acquario in una boccia di vetro ovviamente non sarà adatto ad ospitare alcun tipo di pesce ma sarà ricco di piante e ospiterà qualche piccola chiocciolina seguite tutti i passaggi le piante acquatiche che andremo ad inserire sono piante acquatiche da semi potete usare le varianti big o small leaf della simil calidricoides chiamata così sugli store online anche se si tratta in realtà di una variante di igrofila è una pianta bellissima vi metto il link di questi semi in descrizione ho piantato questi semi facendoli semplicemente cadere e ho tenuto umido costantemente nei giorni con questo spruzzino di acqua senza fertilizzante ho coperto il tutto per tenere umido dopo circa un mese hanno sviluppato un bel apparato radicale quindi possiamo riempire il tutto con dell'acqua bene signori esperimento riuscito ho tenuto questo zoom d'avanzato semplicemente utilizzando la luce indiretta del sole se sviluppa dei volvox questa boccia potete tranquillamente cambiare l'acqua potete inserire volendo anche un po' di fertilizzante l'esperimento è ben riuscito mi raccomando non metteteci assolutamente i pesci in una boccia così piccola mettete qualche massimo qualche chiocciolina e godetevelo insieme alle altre piante che avete ad esempio su un davanzale bene signori come sempre vi ringrazio per tutto l'interesse dimostrato e noi ci vediamo con un prossimo video ciao